Isolamento ridotto a 5 giorni, ma solo in assenza di sintomi da almeno 48 ore, è uscita dall'isolamento soltanto con tappone negativo. Anche in Toscana entrano così in vigore le nuove disposizioni per la gestione dei casi positivi al Covid-19, rese note oggi con la circolare del Ministero della Salute. Le nuove regole sono in vigore dunque da oggi e si applicano per tutti i nuovi casi e anche per quelli attualmente in isolamento. I 5 giorni di isolamento decorrono dalla data del primo tampone positivo. Restano invece invariate le procedure da seguire anche quando si esegue un tampone. Una volta inserito nel portale regionale da parte del laboratorio della farmacia, il referto di tampone positivo è necessario procedere con l'autovalutazione da effettuare sul sito della Regione Toscana, che permette in tempi certi ed immediati la gestione del caso positivo e a seguire il rilascio della certificazione di guarigione. Durante la compilazione è importante dare risposta alle domande specifiche sullo stato di salute, prestando particolare attenzione alla descrizione dei sintomi avvertiti. In caso di positività persistente, infine, si potrà interrompere l'isolamento al termine del 14esimo giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall'effettuazione del test. Grazie. Grazie. Grazie.